ciao a tutti i ragazzi bentornati nel nostro canale youtube sono in compagnia di laura oggi per il video manga facciamo questo confronto tra l'edizione italiana di bakuman ovvero questa e l'edizione giapponese prima di iniziare il video vi ricordo che in descrizione link japan shopping service se volete acquistare questo o altri manga direttamente dal giappone ci contattate adesso andiamo a vedere come si presentano le due edizioni allora intanto dalla copertina si può notare che sembra identica però a livello di colorazione l'edizione giapponese è un po più scura comunque ai toni un po più accesi perché vedete il colore della giacca del protagonista che qua è un po più accesa come anche il viso qui mi sembra un po più chiaro un po più scuro si esatto poi qui c'è la scritta jump comics con questa specie di appunto login no questo si c'è anche in quella italiana i numeri però appunto chiaramente qua è stato pubblicato appunto tramite il jump mentre qui planet manga vabbè chiaramente poi appunto i nomi degli autori qua ci sono scritti vediamo anche la costina facciamo vedere sì diciamo che molto fedele all'originale poi appunto anche dietro comunque sia come si presenta con i vari loghi jump allora devo dire che lo spessore chiaramente è più spesso quello giapponese un po più grande no ricorda diciamo lo spessore delle ristampe di bakuman o come li stampa onora la panini comics ecco poi allora questo qui c'è da dire quella giapponese c'ha questa sovracoperta sovracoperta con queste scritte qua si può vedere sovracopertina eccola qui sia di qua che dall'altra parte eccola qua con jump comics mentre quella della panini è assente e si presenta non ha la sovracoperta poi mancano chiaramente le note degli autori adesso andiamo a vedere dentro no dentro poi devo dire che si presenta abbastanza uguale praticamente uguale ecco hanno deciso di riportare ah sì è vero sì le annotazioni invece qua dentro queste qua che qui ci sono sulla sovracoperta proprio pari pari perché qua non hanno voluto neanche diciamo togliere le scritte giapponesi per metterci la traduzione hanno preferito metterla qua a lato ecco no diciamo che è stata una cosa abbastanza apprezzata visto che magari certi certe edizioni preferiscono togliere direttamente senza senza lasciarli ecco sì poi praticamente allora qui c'è un intro mentre aspetta c'è un indice con i capitoli aspetta no l'indice che qua non è perché in quella degli italiani sembra non sia presente no non c'è no no aspetta vado a vedere in fondo ma se fosse riportato in fondo no non c'è non è presente quindi qui si parte poi appunto con la prima pagina eccola qua e poi con le altre che praticamente sono sono praticamente uguali sì devo dire che a parte qualche accorgimento abbastanza fedele sia parte sopra copertina e quella differenza lì dell'indice poi praticamente è praticamente uguale sì io direi di andare a vedere in fondo vediamo se c'è qualche differenza appunto in fondo allora l'ultima pagina aspetta mi sembra che sia sì questa ok andiamo avanti ah sì ci sono anche qui sì sì anche i contenuti extra sono stati mantenuti vabbè lì chiaramente c'è la pubblicità e la preview invece è una diciamo invenzione italiana sì perché qua non c'è appunto non non è non è non è presente ci sono appunto le altre le altre pagine questa piccola pubblicità e niente qua appunto c'è le varie scritte e niente questo appunto diciamo insomma la differenza principale è quella lì della della sovracopertina e l'indice che appunto in quella italiana è sì e magari anche le annotazioni degli autori che le hanno volute sostare all'interno come anche la colorazione della copertina o la qualità insomma della carta che quella giapponese è più flessibile e niente storia come sempre che parla appunto di due ragazzi due studenti che riescono insomma entrare nel mondo dei manga a creare i manga anche mentre appunto stavano frequentando ancora la scuola io vi consiglio se volete saperne di più di rivedere il nostro video che abbiamo fatto a tal proposito le recensioni che abbiamo fatto insomma trovate nella playlist video acquisti manga quindi ragazzi io direi che per questo video è tutto se il video vi è piaciuto lasciato mi piace commentato condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao